Non una lista civica né un movimento, ma un gruppo di giovani tra precari studenti e professionisti appena entrati nel mercato del lavoro che vuol dar vita ad un percorso che da oggi alle prossime elezioni amministrative metta in campo proposte idee frutto di partecipazione e condivisione. Tutto questo è Ora Tocca a Noi, l'organizzazione guidata dal giovane Diego Blasi di SEL che punta a diventare una voce importante nel panorama politico del centro-sinistra. Blasi non nasconde che l'obiettivo è dare a questo gruppo di giovani studenti precari una rappresentanza in Consiglio Comunale, un laboratorio di idee a sostegno del candidato sindaco del centro-sinistra Matteo Bifoni, ma anche di stimolo per il prossimo governo della città. Iniziando questo percorso ci siamo detti che non potevamo più aspettare, soprattutto se come generazione in questi anni abbiamo conosciuto solo precarietà e assenza di diritti. Ora Tocca a Noi è un percorso che vuole dare rappresentanza a una generazione che in questi anni è stata data solo come strumento per giustificare politiche disastrose. Si faceva la riforma del mercato del lavoro per i giovani, quella delle pensioni per i giovani e poi abbiamo visto che è stato fatto tutto contro i giovani. Non vogliamo dare rappresentanza a una generazione che in città oggi vive una crisi drammatica. Questi cinque anni hanno distrutto tutti gli spazi di socialità, di possibilità anche di elaborare una proposta politica alternativa. E quindi ora Tocca a Noi, Tocca a tutti coloro che stanno ai margini, non solo i giovani, i meno giovani, i migranti, i precari, e Tocca a Noi costruire un futuro migliore per Prato. Ora Tocca a Noi debutterà domenica dalle ore 19 allo spazio Recuperiamoci in via Pier Cironi. Sarà presente Shleinelli di Occupy PD e Maria Pia Pizzolante, portavoce nazionale della rete Tilt. Tra le proposte in campo quella di mettere in piedi assemblee cittadine permanenti al posto delle circoscrizioni che a breve saranno eliminate. Un modo per il Comune di raccordarsi con i territori e le periferie per conoscerne criticità e punti di forza.